Ha ricominciato a nevicare su tutto il Piemonte e a Torino è emergenza all'ospedale Molinette. Secondo i dati dell'ARPA nel corso della giornata almeno 5-10 cm di neve fresca si sono depositati su tutto il Torinese portando le temperature a livelli polari. Alle 14 di questo pomeriggio la colonnina di Mercurio registrava i meno 0,4 gradi, mentre un'ora dopo era già scesa a meno 1,7. Proprio il gelo è il pericolo principale. Le basse temperature infatti potrebbero impedire l'azione di scioglimento del sale rendendo concreto il rischio che si formino lastre ghiacciate. Disagi si sono registrati per tutta la giornata sulla rete ferroviaria del Piemonte. La linea più colpita è la Torino-Pinerolo-Torre Pellice dove sono stati soppressi due treni a causa del ghiaccio presente sui binari. Le basse temperature stanno provocando numerosi disagi anche nell'attività dell'ospedale Molinette di Torino che ha già annunciato una riduzione delle prestazioni. Da domani fino al 5 febbraio chiuderà l'attività non urgente perché la centrale termica per il riscaldamento e il condizionamento è in corso di ristrutturazione e non è in grado di affrontare le temperature polari previste per i prossimi giorni. La decisione che sta suscitando molte polemiche si è resa necessaria, spiega la struttura sanitaria, per preservare le aree sanitarie a maggiore criticità come il pronto soccorso, le urgenze e le attività di trapianto. Verranno dunque bloccati i ricoveri programmati e le attività ambulatoriali della Dental School. Ma il peggio deve ancora venire. Se le nevicate si arresteranno già a partire da questa sera, infatti, sarà invece una caduta impicchiata per le temperature. Già questa notte alla Capanna Margherita sul Monte Rosa, a 4.500 metri di altitudine, il termometro è sceso sotto i meno 26 gradi. Ma anche a quote più basse le minime hanno sfiorato i meno 20 gradi. Così a Sestriera, sulle montagne olimpiche, dove è stato registrato meno 17,9 gradi, e a Macugnaga, dove la minima è stata di meno 18. Il comune di Torino è pronto a schierare 1.100 sfalatori per sgomberare le strade dalla neve e dal ghiaccio.